mio caro mad fox è fai al fantasy 8 che ne pensi cosa ne penso è un video in generale uno dei top 4 barra 5 fan al fantasy di sempre insieme al 6 7 8 9 10 per quanto mi riguarda tra quelli origini principali sia chiaro è meraviglioso e come viene da molti la storia d'amore fatta in persona che sarebbe rinnova con lo school o che a te non ti piace di noi infatti voglio parlare anche molto di questa cosa poi no ma non è quello morte fermo un attimo è che la storia d'amore fatta in persona cosa fa school per far innamorare rinua niente school è un manzo rinua lo vede e dice lo voglio punto quindi la storia d'amore è che sono innamorati a cazzo cioè rinua l'ha visto ha detto ammazza che bello lo voglio e school perché si deve innamorare di rinua non si sa che diranno niente 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 già iniziamo male a dare un nome ma tutti i fan al fans ha detto storia d'amore bellotto ma non ora si trova io ripeto poi per me scuola un coglione lasciando stare il suo comportamento che veramente è glielo dire in faccia lui continua a farsi domande cosa vorrà da me chissà che cazzo vuole questo ma madre di dio school c'è school è veramente è l'unghia del piede di gitan che quella invece ogni volta che si ha le scale ti mette pari le mani sul culo il gitan vero uomo senti school è un cucciolino traumatizzato è normale che fa così guarda non dico quello che cosa tra me bandano no è un cucciolino traumatizzato comunque come opinione generale ok la storia d'amore che rapporto sai con fantasy 8 nel senso l'hai giocato quando da piccolo quindi c'hai un rapporto nostalgico eccetera eccetera allora l'ho giocato sì quando ero piccolo e mi è sempre dispiaciuto che non l'ho giocato troppo nel senso a differenza ad esempio da un 10 che l'ho finito 16 17 volte platinando più volte ok qui l'avrò ho fatto tre volte di cui uno in live e due per cavoli mia al tempo e mi è sempre dispiuto tanto perché è uno secondo me dei giochi di final fantasy più completi nel senso una miriade di come si chiamano gf qua si si f erano una miriade di gf una miriade di roba da fare una miriade di roba da cercare e leggere che devo dire che in molti altri final fantasy ne vedo pochi soprattutto degli ultimi gli ultimi veramente vediamo il 16 da domani zan 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 quindi l'hai giocato da bambino ma poco e l'hai apprezzato dopo quindi non sei così tanto nostalgico no te lo dico perché io l'ho giocato tu lo sai nel 2024 per la prima volta completamente in blind cioè io se mi facevi vedere scuoli dicevo scuoli di fare fantasy 8 tutto il resto boh quindi io ho un problema con me stessa che non riesco a darmi una spiegazione al mio giudizio verso fare fantasy 8 perché è pieno zeppo di problemi grossi a livello di trama a livello di gameplay a livello di a un certo punto non si capisce più un cazzo e ci sono spiegoni su più un disastro ma mi piace da morire mi ci sono legata tantissimo nonostante lo abbia giocato nel 2024 i personaggi scuoli in primis sono devastanti a me come ci viene presentato scuola comunque taciturno che non dice niente ma ha questi pensieri sopra con mille dubbi mi ha fatto innamorare quindi io dovrei bocciarlo sto gioco perché c'ha troppi problemi ma non ci riesco e se tu mi dici ti è piaciuto fare fantasy 8 cazzo si rigiochiamolo nonostante il fatto che c'ha una lista infinita di problemi al quale sono anche molto incazzata e il primo è il bilanciamento del gioco allora secondo me tu poi hai giocato remaster e tu hai giocato l'originale si ho giocato la remaster ok che già là ci sono state diverse critiche in effetti anche dalla gente allora sul fatto del bilanciamento sono molto d'accordo con te però vi faccio sempre un pensiero che secondo me nel tuo subcocio deve fare lo stesso ragionamento secondo me e te il fattore che sto giocando si siamo nel 2024 ma un gioco del 99 e devo dire che sempre sono un po' sbilanciato e mi ricordo anche quello con Cecil quando lo giocavo a scuola perché sì io giocavo a scuola non studiavo giocavo a questo quando mi prestavo a scuola ma bastava leggermente spare tu spaccavi il culo a tutti per cui era proprio secondo me un problema un po' dei vecchi man fantasy secondo me ma questo il bilanciamento io mi sono incazzata una volta sia all'altra pure perché non si tratta solo di expare sono queste cazzo di junction che come effettivamente meccanica sono bellissime cioè il fatto di equipaggiare degli enormi spiriti, degli enormi eoni, delle enormi entità e tramite quelle con le magie che devi rubare ai mostri pompare le tue statistiche è meraviglioso il fatto è che le pompi troppo in pochissimo tempo e i boss sono dei deficienti cioè a me ha dato fastidissimo arrivare dal boss e invece di battagliarlo vediamo cosa ha da assimilare questo mangiamo tantissimo poi gli dai una zappata e muore no, no io mi incazzo io mi incazzo come una belva a me quella roba non è andata giù per niente ma per niente quindi non si tratta solo il problema di livellare perché effettivamente non è che livelli poi così tanto è che appena becchi il mob con la magia nuova ti metti lì e l'assimili ma anche solo per provare poi la metti e vedi se state si raddoppiate e c'è, non è fatto intendo quello quando dico expare per farlo fatto è assimilare e naturalmente livellare e magari prendere anche gli oggetti per farti le nuove armi sì, poi alla fine sblocchi anche le varie elaborazioni il transcard che quindi ti leva anche tutta la fase di grinding che puoi dire magari mi annoio a prendere le magie quindi a un certo punto smetto però te le puoi craftare ma allora dillo che lo vuoi rompe questo gioco e perché allora non hai rotto i boss? cioè è quello che a me mi fa incazzare come la belva e io che sono una videogiocatrice legata molto al gaming cioè se tu non mi piace come stai svolgendo la fase di gameplay io troppo il gioco non ce l'ho fatta con Final Fantasy VIII nonostante che poi a un certo punto la storia imploda su se stessa imploda proprio su se stessa e diventi un bordello ok vai 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 allora sul fattore del tornando a quello che dicevi prima così poi mi collego c'è anche da di una cosa secondo me Final Fantasy VIII ha il miglior gioco secondario della storia di Final Fantasy il cazzo di carte sono fatte da Dio il gioco delle carte è fatto da Dio e quello lì per me punti aggiuntivi in una maniera incredibile senza contare che Final Fantasy VIII non so se tu hai avuto lo stesso problema mio sul PC ma c'è presente che vanno dopo i GF di premio il pulsantino per potenziarli no? io non so perché sul PC questo pulsantino non mi funzionava lasciando stare questa cosa però su PlayStation mi funzionava e penso che mi ha fatto diventare talmente tanto veloce con quel dito e quando andavo a giocare a altri giochi vincevo sempre contro tutti cioè ho diventato una bestia era proprio quanta velocità mi aveva messo vabbè a parte che io l'ho scoperto tardi questa roba del supporto no? perché poi puntualmente mi scordavo di usare questo supporto ma la verità è che a parte le prime battaglie dove dici c'ho il GF che evoca e sparecchio tutto io uso il GF e sparecchio tutto no? dopo inizia a capire che effettivamente i personaggi base sono molto più forti dei GF e quindi chi cazzo lo usa più? quindi altro che supporto insomma lo usavo questo supporto giusto per vedere l'animazione del nuovo del nuovo GF oddio Eden sei ore e mezza sei ore e mezza di animazione figlio mio più lungo di tutti te voglio bene ma non se può ma non se può ecco Giudan tra lungo quello lì mi sembra che potevi fare pure lentamente il supporto e ce la facevi comunque per quanto tempo c'avevi sì mandavi pure al bagno a prendere il panino nel mentre stava ancora lì bello 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 tu hai detto che comunque con tutti e tanti problemi tu comunque non sei riuscita a dire che non ti piace anzi ti è piaciuto tanto no cioè è questo che io non riesco a spiegarmi cioè sono divisa in due dico la storia a un certo punto per me c'ha dei problemi il gameplay è rotto ed è rotto potevano potevano aggiustarlo nell'armastered pompavano un po' ma un po' in boss non l'hanno fatto peccato però è rotto però cazzo lo amo non riesco a capire perché allora secondo me oltre a quel gioco delle carte mi abbia detto tutte queste piccole cose secondo me è e qui tiro anche una freccia perché una delle cose mi ha dato sempre molto fastidio allora per me i personaggi di Final Fantasy VIII sono bellissimi tranne uno sono tutti in una profondità hanno tutti una bella storia tranne un personaggio che a me mi dispiace un sacco che non l'hanno approfondita così bene Artemisia per me Artemisia me la dovevi approfondire molto di più per quanto mi riguarda e mi dispiace un sacco di questa cosa perché vorrei tanto sapere tante cose più di Artemisia invece ti lascia nell'immaginario vaffanculo ma dimmelo non immaginario e invece ecco Laguna la storia di Laguna che è bellissima la storia comunque anche di Rino ave tutti i traumi che ci ha avuto Zell che è il mio preferito in assoluto perché Zell è per me il più bello in assoluto altro che Squall cioè il mio gallinaccio oppure Seymour 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 che oltretutto per chi non lo sapesse era il mio nome di quando giocavo ai giochi MMO del tempo il mio era Seymour ma con la Y invece con la I bello io ho amato il trio di Seymour la lealtà di Ryujin e Fujin mi ha spezzato il cuore nel finale insomma nella parte finale l'ultima battaglia di Seyfer quando Ryujin e Fujin effettivamente si girano e passano dalla parte di Squall perché vedono che effettivamente Seyfer è andato sì oltre ma troppo oltre e non tornerà mai e si girano dopo tanto tempo che loro comunque gli avevano dato fiducia a me mi ha fatto venire i brividi ti giuro io stavo lì con i brividi e ho detto cazzo dopo che faccio 40 ore di gioco dove Ryujin e Fujin capiscono vedono che Seyfer insomma è andato un po' oltre sta sbagliando ma la loro amicizia li tiene legati sul finale vanno dalla parte di Squall per cercare di salvare l'amico no no fermi tutti poi da lì io non ho capito il finale di Seyfer cioè finisce il gioco quello sta a pesca no no scusami ok io ci arriveriamo anche a lui secondo me ti voglio domandare una cosa chi è il personaggio principale vediamo se l'hai capito Squall questa c'è tanta psicologia dietro c'è una psicologia incredibile dietro che molta gente secondo me è pure per quello che c'è in quel momento nella storia è il destino stesso loro sono tutte pedine e lo sai che te lo dice il video iniziale la canzone che si chiama libri fatali che ti dice proprio aspetta l'ho scritto perché era scritto in latino non posso andare a tradurlo e l'ho stata ecco qua destarvi dal sonno figli miei non è più il tempo delle culle che era infatti le parole anche la voce se andai a vedere soprattutto in giapponese stesso di come cazzo si chiama è Ayn Queen ah ah il famoso En sì e da quello che ci ha detto anche uno dei collaboratori di Nomura ragazzi è il destino tu in realtà non stavi giocando con loro è come se tu stavi tu pensa una scacchiera tu sei da un lato e l'altra parte c'è il destino e dice non mi piacciono queste regole no no tu muovi quelli punto e base devi fare questo questo e questo perché sono troppe cose che c'è zero possibilità che possono accadere cioè che Adele no meglio dirlo dopo magari dopo faccio confusione però che il potere di quella strega va a quella strega precisa che in tutte quelle che ci sono al mondo perché al mondo ci sono tante streghe che noi non sappiamo che naturalmente sono nascoste quante possibilità c'erano praticamente zero perché infatti c'è sempre il richiamo del è il destino dovevi andare così punto e basta ma sai cosa secondo me dal mio punto di vista il destino è semplicemente un mezzo per il quale poi le cose accadono non può essere proprio il protagonista perché è il destino in questo caso di Squall che deve fare determinati passi nella sua vita però alla fine stiamo parlando della storia di Squall che è collegata in maniera incredibile a tante altre storie che si intrecciano in questo in questo mondo la storia della Guna come le varie altre piccole storie che orbiterano la Adele che si trova in quel punto per accogliere eccetera sono tante piccole storie che Squall le unisce un po' perché poi abbiamo questo grosso problema che a me non mi va giù e infatti qui torniamo al fatto del non riesco a capire perché fare un fantasy 8 mi piaccia così tanto nonostante abbia così tante cose che io odio dalla parte del gameplay dall'altra parte le paradossi temporali io i paradossi temporali non li mando giù perché i paradossi temporali proprio per definizione non sono spiegabili una cosa che non è spiegabile diventa un paradosso ok qui qual è il paradosso il paradosso è Squall che senza Squall non può essere Squall ok perché Squall è quello che va a creare i Seed a creare i Garden e a creare tutta questa situazione per poi tornare a quel punto in cui la madre e Dea accoglie il potere d'Artemisia e si ricomincia tutto da capo e questo Squall che non può essere Squall senza Squall mi dà fastidio mi dà fastidio perché non c'è una linea zero non c'è una linea zero in cui Squall non può essere Squall perché se Squall non può essere Squall non sarà mai Squall questa roba mi spacca in due in tre in quattro in cinque e nonostante tutto io sono innamorata di fare il Fantasy VIII e non capisco perché e il fatto è quello i paradossi temporali oltretutto essendo che noi non sappiamo alla fine veramente come può essere un paradosso poi ogni come si chiama ogni autore fa un po' come cazzo gli pare in che senso quello di Harry Potter ah non puoi non puoi vedere il tuo simile se no boom boom ognuno fa un po' come cazzo gli pare e in questo caso ecco nel Fantasy VIII ecco fai tornare Squall comunque 17 anni indietro per dire a Dea oh devi creare i seed perché dobbiamo combattere contro la strega e poi lei lo crea crea i seed bianchi che deve proteggere Dea che cazzo è amazzo è vero può mettere oltre una confusione eh no lì dipende dal singolo cioè ci sono alcune persone che dicono ok è un paradosso va bene è un paradosso io è un paradosso no è un paradosso non può essere è quello perché a te non piace esatto però ti giuro nonostante ciò io amo follemente cioè io sono rimasta affascinata affascinata proprio tanto 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 tu hai detto una cosa prima poi siamo partiti per la tangente tu hai detto che la storia a un certo punto non diventa un casino sì per me sì per me non diventa anche perché per me è spiegato tutto già per me è paradosso è un casino no però molto prima inizia a partire da dove? allora diciamo che io fino al Fisherman Horizon ok quando si riunisce il gruppo e si va a Trabbia ok già lì starci un pochino il naso perché c'è la famosa entrata in scena di Irvinio che di punto in bianco dopo sei anni che siamo stati tutti insieme nel gruppo se ne esce con noi siamo cresciuti insieme come è possibile che non vi ricordate un cazzo che siete tutti rincoglioniti e parte lo spiegone poi da Trabbia si va alla casa sul mare sulle pietra dove c'è l'altro spiegone di idea che dice no ma io ero una strega c'è questa Artemisia che sta a Fanculonia che però prende possesso del mio corpo perché non si sa lì no prende possesso quindi altri spiegoni di roba mai argomentata prima per me lì è il momento in cui inizia a rompersi il gioco perché troppi spiegoni troppi complicati troppa roba di cui non si è mai parlato se prima la narrazione era siamo nel garden facciamo facciamo l'esame per diventare Sid andiamo lì perché c'è bisogno di noi e poi c'è Seifer che viene rapito insomma va dalla strega andiamo a cerca cioè se fin lì era molto no succede questo poi succede questo poi succede questo no a un certo punto tutto un mischiotto di roba un sacco di problemi un sacco di nomi e cose a cui noi non abbiamo mai fatto riferimento e te trovi completamente spaisata per poi arrivare a compressione temporale quindi lì mettiamo un'altra benzina sul fuoco altre cose molto 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 complicate molto complicate che sono complicate sono d'accordo con te sul fatto che ti hanno tirato tante queste forse è vero anche se c'erano degli indizi ripeto quello lì ti dicevo tipo del fatto di questa artemisia del qua della si accennava in una libreria che stava in una non mi ricordo in quale non è a balab ma vabbè no mi sa la libreria proprio del garden possibile c'erano tanti riferimenti che tu per lì li ho leggi diciamo vabbè ok e non gli dai peso naturalmente esatto però come sempre sti cazzo di giochi vecchi dovremmo dar peso a tutto ciò che leggiamo e io ormai siamo un po' cresciuti con il materiale di giochi da adesso e un pochino questa cosa un po' persa devo essere sincero però il fatto è è vero lì ti bombarda e io quello che mi so invece sempre chiesto è perché Irvine non glielo dice prima che Irvine non c'ha avuto il problema della memoria come Seymour Seyfer ancora è per quello che lui si unisce all'idea lui c'ha dei ricordi ancora di idea e io questo mica ci avevo pensato lui ancora si ricorda un minimo di idea e lui gli dà una mano per questo perché secondo lui dopo è successo questo casino quella se ne va via torna idea torna sua madre tra virgolette la madre e questo non ci avevo pensato io sono deficiente fa il cavaliere invece no beh effettivamente ha ragione perché poi ti spiegano a un certo punto che sti gf prendono i ricordi e io lì ci posso pure stare sai potere per ricordi ci posso pure stare ma pure lì che il vino sta zitto per un sacco di tempo e poi a un certo punto se ne esce fuori questa roba è ridicolo che poi tu dici ah bellissimo quindi il vino si ricorda della madre quindi è per quello che nella parata non gli ha sparato tremava perché lui ha comunque un legame affettivo tu dici cavolo bello ma hai aspettato troppo perché da quando Irvinio si unisce al gruppo c'è sta tutta la parte della parata c'è sta tutta la parte della prigione tutta la parte dei missili tutto il viaggio verso tra via cioè è possibile che non c'hai un attimo per dire oh regà ma è possibile che mi ricordate in cazzo e poi oltretutto io non devo essere uno psicologo penso che era un gioco santo dio perché Irvin lui dicono ci hanno dato tanti indizi perché prima di arrivare il momento che dello sparo ci stanno tante volte Irvin che ha dei ripensamenti pensa dice fa dei commenti ho capito ma io devo essere uno psicologo per capire che cazzo quello intende che poi che poi effettivamente lì la prende a ridere perché fanno cioè ti presenta questo Irvini io lo chiamo Irvino come no il tiratore scelto no il più grande tiratore poi minchia sta lì trema sbaglia no e tu dici questo è un coglione no in realtà non è un coglione però poi ripensi al fatto che ha aspettato così tanto a tirare fuori la verità e dici ho capito ma perché cioè poi a un certo punto stava tra via e dice oh ma regà ma vi ricordate ma come oh regà ma vi ricordate ma tu sei scemo e poi ma più che altro da lì in poi funziona tutto un po' così pure sì pure quando vai dalla madre che inizia e te parla delle streghe cioè a caso poi tu lì capisci che il preside anche sapeva tutta la storia e ci sta che il preside sapeva tutta la storia perché se arriviamo al pezzo sempre della compressione temporale dove Edea e Squall parlano Edea mette insieme i pezzi e ci sta che Edea parli col preside e quindi il preside sappia infatti in una in uno dei racconti uno dei dialoghi con Squall e il preside il preside più volte sta lì e dice Squall è tutto nelle tue mani è tutto nelle tue mani e tu dici ma perché poraccio questo gli avate fancazzo nella vita sua perché è vero quando gli avate fancazzo nella vita sua e cazzo diglielo cioè invece c'è un motivo digli qualcosa e invece no vai allora il motivo è secondo me come anche se non secondo me non mi ricordo se lo spiegano però più che altro mi ricordo che era un commento anche che fece il caro vecchio Sabaku e sono abbastanza d'accordo il fatto che i Seed sono stati creati naturalmente prima cosa per combattere contro la strega invece con i bianchi per proteggere Edea no? C'è Edea scusami a Lione e Lione però c'è un problema grosso in tutti questi anni che sono 17 circa 20 cose così hanno più hanno meno si sono proprio dimenticati del motivo del perché sono stati creati e per cui loro erano diventati un liceo di militari che servivano per combattere in giro dove c'erano problemi e quello che mi chiedo se lo fai a dimenticare? soprattutto se a capo c'è sta il preside il preside sa perché il preside è il marito di Edea e quando ti dicono che il preside è il marito della strega tu dici ma che cazzo ma che vuol dire ma in che senso? E quella è la spiegazione più normale come dice Sab Sabaku probabilmente Sid usa IGF ecco perché non si ricordava di questo dettaglio beh io lì la vedo solo che è stato scritto male è stato pensando male perché lui sa lui lo sa più volte durante la storia Sid dice tutto nelle tue mani Squall perché dice tutto nelle tue mani quindi lui lo sa che cazzo deve andare a fare Squall lui lo sa del paradosso perché poi aiuta idea a realizzare il piano che è di Squall fondamentalmente quello dei Sid di Garden e uccide la strega quindi Sid se lo deve ricordare per forza se no non ci diceva è tutto nelle tue mani è tutto nelle tue mani però dice è tutto nelle tue mani e non mi dà altri indizi e il problema secondo me è che hanno ritardato talmente tanto a dire cose che poi a un certo punto tranno dette tutte insieme e lì tu svalvoli e lì c'è un'altra cosa con cui mi arrabbio di Final Fantasy VIII cioè io ripeto stavo sempre lì col discorso ci sono un sacco di cose con cui sono arrabbiata di questo titolo ma nonostante tutto se tu mi dici lo rigiochi ti è piaciuto sì lo amo da morire lo amo da morire neanche mi riconosco neanche mi riconosco ripeto ma ci sta c'è una profondità di storia comunque se andiamo a vedere anche il semplice il silenzio di Esther la così no con la cuna e ti fa vedere la cuna che sta andando a cercare sto cazzo di Pandora e vedi che questa cazzo di Artemisia va che ne so c'è stato il pianto lunare ci manda quelli di Gabadia a andare lì per prendere il minerale così da controllare in un secondo momento il pianto lunare per distruggere i garden e così c'è c'è un un coso di distruzione politica che regà è affascinante che è una storia comunque c'ha dei dettagli cioè buttola così vedete un altro gioco parlando di Final Fantasy dopo il 10 che mi fai a prendere un personaggio secondario sì dopo il 10 dove prendi un personaggio secondario come laguna e gli fai una storia così profonda così tanto secondario io non li vedo ma in realtà non riesco neanche a vedere i personaggi di Final Fantasy 8 come primario o secondario in realtà lì è tutto un piano che si incastra tu dici per il destino sì pure per il destino è quella laguna che ha fatto determinate cose per arrivare a un obiettivo Squall ne ha fatte altre per arrivare a un obiettivo questo paradosso a quanto pare è l'unico modo di risolvere questo enorme problema perché le streghe non panno morire se non trasferiscono i poteri e quindi lì per forza vai cadi nel loop che non è tanto il loop il problema quanto il paradosso perché la linea zero su Final Fantasy 8 non ci sta non ci sta non ci sta e io mi è incazzo secondo me il fattore poi il boss finale proprio in generale Artemisia che ormai è ascesa a cazzi vari no adesso è diventato quel coso coso ascesa no perché è l'unico che va a scendere in Final Fantasy che è l'unico che ci riesce ad ascendere è Kefka cioè diciamo se poi avete lì secondo me perché quando tu la stai uccidendo i commenti che fa Artemisia a me fa pensare una cosa che lì Artemisia lei c'era uscita nel futuro è rimasta l'unico essere vivente al mondo per cui lei vedi che lei è rassegnata alla morte perché lei tra virgolette non può più morire che non può più passare il suo potere a nessuno non è rimasto più nessuno eh ma quello era logico cioè lei cercava la compressione temporale perché lei effettivamente è rimasta sola in questo futuro solo che questo piano della compressione temporale è fuori di testa cioè compribiamo tutto il tempo così io torno ad avere persone intorno però a livello pratico cioè non ha sé cioè cos'è la compressione temporale passata unica linea temporale ma non che ce ne sono tante e diventa una nel senso che passata il presente ma viene sono tre se ce ne hai a pensare il presente il passato il futuro no capito non so tre parallele che diventa una sono tre che si accorciano e diventano una palla quello che vorrebbe fare lei è quello ma non ha senso sì vabbè il senso loro lo possono spiegare semplicemente dicendo di è fantasy sì ho capito prenderebbe subito cioè prenderebbe subito senso ho capito però il fatto è più che altro che io quello che mi lascia sempre un po' basito è il loro piano per arrivare poi a darti misi sul finale cioè lei vuole attuare la compressione temporale quindi noi noi per sconfiggio vabbè falla ma che piano di merda è quello per me è stata che piano di merda è quello per me è stata una stronzata perché là c'hai più rischi che altro cioè letteralmente fai fare al cattivo il suo piano sperando che poi in qualche modo sei più forte di lei poi grazie a Dio ti va bene perché grazie a Dio ti va bene però fondamentalmente è gli hai fatto fare quello che voleva gli hai fatto fare quello che voleva tu prima restando su Artemisia hai detto una cosa non mi è piaciuta come è stata trattata Artemisia io lì non sono d'accordo cioè nel senso Artemisia poteva essere sì approfondita tanto però è sempre stata un'entità del futuro capito una cosa stiamo combattendo qualcosa che non possiamo vedere non possiamo sentire ma c'è ed effettivamente quello è nel finale in realtà mi piace tantissimo tu appena entri nel boss c'è lei che inizia a fare no seed 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 ma che cazzo so sti seed ma me li trovo sempre intorno perché lei Artemisia effettivamente non sa niente del loop temporale del paradosso temporale e se ne rende conto a me quella roba ha fatto venire i brividi lei che si interroga su questi seed che cosa vogliono me li trovo sempre intorno ma non so che cosa sono alla fine poi riescono anche a battermi ok solo che c'è questo problema che comunque non si risolve ovvero le streghe non possono morire se non passano a potere e quindi per forza si deve andare al ciclo e il ciclo non ha un problema secondo me è il paradosso però Artemisia deve cioè è stata trattata esattamente per quello che è un'entità lontana che c'è sappiamo della sua esistenza della sua pericolosità ma comunque un'entità lontana non possiamo sapere di più non possiamo però mi sarebbe piaciuto il file un qualcosa certo poi c'è da dir per esempio un personaggio che a me cioè poi qua c'è il fattore abbelloso il personaggio principale è giusto che vincano ok però devono fare qualcosina in più con Adele in che senso perché per far capire quanto Adele è più potente l'essere più potente anche di Artemisia di tutti basta pensare al caso sta imprigionato nello spazio con la protezione con i cazzi in culo e lui oltre che sta là sta dormendo sta riesce a passare tutto per poter parlare per fatemi quanto è potente però vabbè tu riesci a sconfiggere perché lui per 17 anni è stato addormentato per cui non si è ancora ripreso poi ok che rinnova diventa Gesù Cristo perché assorbe sia l'energia di Artemisia sia l'energia di Adele diventa la strega tra virgolette più forte che di tutte però non ci mette tanto come si dice che il corpo riesca ad utilizzare sì c'è il momento zombie sì vabbè il momento zombie che c'era con Artemisia che si scopava la sua testa e vabbè però lo sai che è per me il tutto perché ti fa vedere come rinnova secondo me la ragazzina che è una ragazzina poi il modo di comportarsi è ragazzina che potrebbe essere un po' la ribellina la ribellina perché se andiamo a vedere comunque lei era il capo sì era la ribellina che però gli capita un qualcosa di terribilmente più grosso di lei per cui qualcuno che gli entra nella testa gli sconvolge tutto lei che era innamorata di Safer poi dopo lo accanna per il comportamento di Safer poi vede un altro manzo e una certa pensavo pure che si scopava pure Zell ha detto ho fatto un po' un po' è male Zell sì è sempre bello poi con il tatuaggio alla Tyson è sempre bello che poi secondo me è un richiamo perché tatuaggio come Tyson è combatto con Pugge vabbè e tutta questa cosa cioè secondo me il bello è proprio quello perché ti fa vedere anche lei stessa quando stai tornando dallo spazio che ti dice no voglio stare un altro in braccio a te perché quando tornerò non potremo stare più insieme io sono una strega a me piace cioè c'ha quel non lo so c'ha quel essere quasi mistico secondo me che anche se c'ha dei problematiche ti dice sti cazzi le problematiche ti riesce comunque a piacette allora io trovo che a livello di personaggi visto che stai parlando di Rinoa purtroppo purtroppo e sottolineo purtroppo i personaggi femminili del party fanno cacare fanno cacare Quincy è una donna in carriera che molla tutto per seguire Squall che non se la fila vabbè non è che non se la fila è quello che non sa come funziona vabbè ma non se gli ha dato picche cioè lei gliel'ha sbattuta in faccia e lui ha detto che non la vuole perché non capisce un cazzo ok lei comunque molla la carriera sei una deficiente sei una deficiente Rinoa come hai detto tu è una ragazzina di merda che fa la ragazzina di merda infatti perché Squall se innamora non si sa ma Squall poverino è un cucciolino che ha un po' dei traumi appena una se l'ha filato un po' di più e gli stava un po' più accollato è normale che lui se innamorasse quella che si salva un pochino di più è Selfie che è una ragazzina però mi è piaciuta molto che esce un pochino tanto il carattere di Selfie nella missione dei missili e trabbia cioè lei è la prima che dice cazzo i missili stanno puntando il mio garden dove io sono cresciuta cioè stanno gli amici miei devo salvarli cioè l'unica che a un certo punto quantomeno tira fuori un po' di grinta e va a salvare chi deve salvare a fermare i missili eccetera eccetera Selfie è quella che si salva un pochino di più però ripeto sono due missioni nell'arco narrativo di tante ore ma Quincy se Rino Quincy non è salvabile Quincy non è salvabile in nessuna maniera lui che faceva tagliare come ci provava dai sì ho capito ma lì dicevi scuola piala ma piala cioè poi non è manco brut piala scuola scuola era disperata Rino è una ragazzina che si comporta da ragazzina punto cioè che profondità c'ha niente nulla secondo me secondo me no è troppo troppo poco cioè nel senso sta lì e gli capitano le cose fondamentalmente cioè sta lì nel momento sbagliato diventa una strega e poi c'ha st'amore per scuola che dici quello lo guardi ti innamori è normale poi è sta attaccata come una cozza perché i ragazzini stanno attaccate come le cozza lui c'ha i problemi e si innamora perché se lui non ci avesse avuto dei problemi l'aveva accannata pure lei diciamo che le figure femminili belle se le è beccate tutte laguna perché rain è una signora una signora una donna quella di maiuscola che grazie a rain poi effettivamente noi abbiamo un fantasiotto perché se non era grazie a rain che prendeva le iniziative laguna stava ancora lì con l'uccello c'è la lucella in mano e pure Giulia in realtà a me piaceva cioè nel senso era pure lei una donna in carriera che ci stava a provare con laguna perché vedeva che comunque laguna c'aveva dei problemi perché laguna c'ha dei problemi un po' timidino un po' così un po' angioletto che comunque lo stava aiutando cioè sono donne furbe che dicono ok però a me piace laguna quindi lo aiuto a dichiararsi lo aiuto a e quindi hanno un minimo di volontà di pensiero di essere risolute invece quelle del party Rino è comprensibile ma ti devo dire è un bel personaggio no? no è un bel personaggio in senso no sia chiaro è così è una ragazzina sta lì però ho già dovuto dire di Rino c'è una cosa che nessun altro personaggio che c'ha che per me vale tutto Angelo Cannone c'è l'imbraccio un cane lo spara rega dai ma Angelo è a parte secondo me guarda pure il cane si sta preoccupando con quello che ho detto guarda no il cane è a parte Angelo gli vogliamo tanto bene Rino è il problema ad Angelo gli vogliamo comunque molto molto bene il fattore tu hai detto prima dell'innamorarsi di Scuola e Caolivari secondo me la ciliegina sulla torta per quanto mi riguarda che ha fatto un po' sciogliere del tutto per me il fattore è stato il finale quando Scuola praticamente sembrava morto e lei perché è praticamente il potere della strega al massimo potenziale che fa quell'urlo che vedi pure le nuvole che si che si dilatano con i fiori che sbocciano e lì si richiappa secondo me è stato quello l'attimo in cui ha fatto anche tra virgolette sciogliere perché se vedi poi il video dopo Scuola che sorride per la prima volta testa di minchia no ma più che altro diciamo che la storia d'amore tra Scuola e Rinoa si è è sbocciata perché Rinoa ha questo effetto piattola capito che su Scuola alla fine ha fatto breccia perché Scuola ce l'hanno presentato sempre con questo personaggio chiuso che non si apre perché lui ha questo terrore di perdere le persone e quindi lui si è chiuso ha fatto sta corazza che ha mille dubbi e poi che cosa dice si no ok non me va e sto effetto cozza sto effetto cozza di Rinoa che si appioppa si appiccica si appiccica si appiccica alla fine ha fatto breccia però se torniamo all'inizio del video è una grande storia d'amore no è una storia d'amore un po' de merda però guarda devo chiedere a me ci sono certe scene invece a me parlando sul fatto di amore che d'accordo a Nomura tipo ecco il pezzo quando lei sta morendo palesemente sullo spazio che poi ci si butta subito squall per me quel pezzo è meraviglioso o anche quando il loro primo abbraccio quando lui va a salvarla cioè per me posso dire che pensando ad altri Final Fantasy mi viene in mente ok qualche pezzo magari del 10 del 9 giù sul finale perché poi se no di Romantico c'è stato sono gitanna che ogni porta che sale le carne ti tocca al culo per cui diciamo di Romantico c'è un po' ben poco però pensando anche ad altri per me viene considerato quello romantico perché è quello che ci sono scene un po' più anche il fatto quando lei sta in braccio a scuola gli dice no non voglio staccarmi e quali cazzi vari no perché è una piattola sì sì ma sono d'accordo sul fattore piatto quello sì però non vedo nessun cioè pensandoci non so il 16 però non mi viene in mente nessun altro Final Fantasy dove c'è una storia che è così concentrata comunque anche un po' in questi momenti romantici beh effettivamente perché Final Fantasy non si tratta di una serie di storie d'amore anzi sono tutte storie di guerriglie problemi capito se c'è l'amore ce lo mettono se no se no no se no no tu prima l'avevi citata Adele questa stregona stregonona bella forte super potente lei è la strega più forte di tutti alla fine togliendo Artemisia che è quella stata del passato quindi quanto è forte Artemisia boh contando gli abbiamo dato du zeppato ed è morta non tanto Adele è la vera è il vero problema che lui è stato per tanti anni sconfitta da una spinta della cuna ora tu dimmi io lo amo laguna io non mi si tocchi laguna cioè più laguna di school ma ma quel pezzo poi tu dimmi no ma non è scritto male a un certo punto hanno finto le idee hanno dato i numeri lo spazio cioè pure lì sparare la gente nello spazio Adele Adele sconfitta da una spinta quello si ma sai che perché secondo me loro hanno sempre pensato a un laguna un po' tipo alla unizuga non so se tu c'è presente gto ok un personaggio giusto ma simpatico che fa un po' le scene del cazzo io non so devo parlare con i ragazzi gli vengono i crampi alle gambe che timido beh cose così posso essere mi vengono i crampi alle gambe mentre parlo con qualcuno santo Dio cioè per via Nictus mi parlo con qualcuno è finita mi rivede il laguna cioè infatti non si ricorda le cose ha delle lagune no per cui c'è il fattore ecco per esempio del coso spaziale la prigione dello spazio ha capito il progetto una fantasy in 8 è partito proprio da lì cioè quello era proprio stato il coso centrale e poi hanno costruito tutto l'altro il resto ho capito però c'è un problema di base quando cioè tu arrivi a Estar eccetera eccetera no e poi a cazzo di cane ti dico vabbè adesso ti spariamo nello spazio perché no ma ti spariamo nello spazio e vengono sparati nello spazio cioè non c'è il motivo non ti spiegano le cose è un avvengono delle cose una dopo l'altra che non hanno senso la scena prima stavi a Estar a scena dopo stavi nello spazio torni giù c'è la guerra cioè è tutto un cuore aspetta Scuola si è fatto sparare perché c'era Rinoa lassù eh certo ma perché hanno sparato Rinoa lì su ci pensa Odino ci pensa no 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 perché Rinoa alla fine volevano fare rinchiudere insieme ad Adele volevano buttarla là dentro anche a lei è quello perché io sinceramente non l'ho capito cioè perché il professore incredibile meraviglioso che si chiamava Odin Odin sì Odin che io non so mi ha spezzato il fatto che le sue linee le sue linee erano scritte in un tedesco italianizzato cioè io 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 stavo piegata ogni volta che parlava perché non non pensavo che fosse possibile arrivare a a un'idea del genere cioè è tedesco lui dobbiamo far capire che è tedesco non c'è il doppiaggio scriviamo in un tedesco italianizzato no è fuori di testa però non si è capito perché volevano sparare Rinoa là sopra cioè a un certo punto tu arrivi a Esther dici c'è Rinoa che è morta perché stai lì che la porti c'è Rinoa che è morta la dobbiamo svegliare sì sì ci penso io la spariamo nello spazio cioè scuola è normale che va perché c'è Rinoa ormai ormai lui piccicato capito dove a lei va lui non si sa perché però proprio è sempre la storia storia è sempre un po' così però ormai lì c'è il legame no quindi la insegue però non si è capito perché la sparano per quello dico che a un certo punto mi incazzo a fare una fantasia perché butta fuori roba e la memoria e tutta la storia delle streghe che te vi è buttata lì e e la storia d'amore che parte un po' a cazzo di cane con l'effetto colla di Rinoa perché pure quando inizia il viaggio di school verso Estar cioè è lui da solo con Rinoa che partono no e tu lì dici ma quando sei innamorato questo quando gli interessa così tanto Rinoa non c'è Pia e parte però c'è posta arriva Estar e ci sta tutto il gruppo là cioè lui è partito da solo come cazzo sono arrivati i loro quindi succedono delle cose poi arrivano Estar spara nello spazio ma perché vabbè andiamo nello spazio poi nello spazio e ritorniamo giù c'è tutto un cazzo di cane il fatto il fatto è quello per quello che ti dicevo che stanno troppe cose nascoste perché ecco quando lei viene sparata nello spazio che la vogliono rinchiudere c'ha senso adesso lei deve essere rinchiudere cioè il loro piano è quello rinchiuderla perché comunque è un'altra strega come diciamo sempre allora perché non rinchiudiamo pure Artemisia perché Artemisia anche se la rinchiuditi non può rinchiudere perché il suo vero corpo sta nel futuro è la mente cioè tu se chiudevi Adele per esempio rinchiudiamo Adea Artemisia dentro e spezziamo il lupo non avrebbe funzionato sarebbe semplicemente tornata indietro avrebbe usato il potere su un'altra strega e il fatto è che sta cosa però chi è che te la racconta per quello che ti dicevo che veramente è un po' la mia mia zagata anche se mia zaghi non c'entra con Final Fantasy è che devi trovare mentre visto quando Rinoa gli parta la Briccola no? che viene posseduta sì mi sta una cazzo di scienziata in una stanza che io ti giuro dopo perché l'ho vista da Sabacus non chi cazzo avrebbe mai vista sta cosa in una stanza dove ti dice che il piano di Dottor Odin è mandarla sullo spazio per chiudere insieme ad Adele altro che ci penso io fidati di me sto bastardo sì sì infatti è quello fidati non ti preoccupare sono diverso no quello non sarà capito eppure io quando mi sono trovata nello spazio perché siamo arrivati nello spazio come ci siamo arrivati nello spazio come laguna che con una semplice spinta è diventato preside di Esther ma da laguna te lo aspetti perché te l'hanno sempre presentato come questo personaggio un po' svampito un po' rincoglio dove dobbiamo andare non lo so provamote qua che però alla fine gli va tutto bene nonostante lui sia così cioè non sa bene perché fa le cose le fai e gli va ma c'è un po' di culo laguna c'è molto culo laguna però pure io in tutti i sensi ma che io volevo dire laguna tanta roba però secondo me è una fortuna giustificata perché lui ti viene presentato come effettivamente una figura super positiva cioè non fa mai niente con una malizia di un tornaconto quindi l'essere estremamente generosi estremamente figure positive ti ricompensa ed è quello che mi piace molto di laguna è molto genuino e non c'ha proprio il lato oscuro non c'è là non c'ha niente di oscuro laguna quindi visto che gli va tutto bene quello che che tocca nonostante che i presupposti non siano dei migliori cioè do una spinta da Dele la rinchiodo io la strega non è proprio un gran piano effettivamente secondo me ricompensa ricompensa tantissimo un'altra cosa che io non ho supportato di fare a fantasy 8 il lione ok il lione il lione si è un oggetto cioè più che una persona io lo vedo come un oggetto si ma e lione ti fa fare i flashback su laguna tu all'inizio non capisci perché hai questi flashback però sinceramente sono bellissimi io li amo perché poi ho amato il personaggio di laguna ma anche il trio secondo me funziona bene con Ward che non parla e Kiros che traduce le cose cioè è un trio che secondo me funziona bene le sue parti tra me e Giacomo precisamente si 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 e sono molto carine le sue parti sono un po' spezza narrazione però sono carine ma le hai fatto il segreto tu quale quello del villaggio di Shumi sul ghiaccio quello là che se tu dovevi lasciare aperta una parte così quando tu tornerai lì troverai aperta quella parte e troverai un oggetto segreto che non mi ricordo che oggetto era un oggetto importante altrimenti no io pensavo a quella di Shumi con la statua no quella che ci stanno le palle di ghiaccio giganti che te cascano cioè le palle di ghiaccio ma dentro al dungeon di laguna questo mi ricordo mi ricordo che era completamente ghiacciato e stavi naturalmente con laguna e gli altri due e allora mi sa che il pezzo del dungeon di laguna dove dovevi far esplodere le palle che attappavano dei buchi sì quello quello allora sì 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 qualcosa ho fatto che stava ah ok e Lione e Lione all'inizio te la presentano come quella che ti fa questi viaggi mentali con laguna tu dici ma questo chi è ma che voglia da me mi piace tantissimo il primo il primo ricordo perché c'è laguna che parla con Giulia e ci sono i commenti del party che dicono ma guarda sto deficiente ma guarda sono il coglionino ma che cazzo sto facendo quello è una roba devastante da lì ho amato i flashback di laguna e quando li vedevo erano io li aspettavo proprio ma verso il finale e soprattutto quando scopri che laguna l'è vivo perché io a un certo punto ho risposto a pensare che fosse morto perché dico se il lione per scoprire il passato di laguna utilizza me no perché lei ha sto potere di poter viaggiare no quindi scuola laguna abbiamo capito no la situazione e quindi riesce il lione a sapere del passato di laguna laguna è morto e invece a un certo punto ti trovi laguna lì ti trovi laguna lì eh no no amica mia io non sono morta no io lo so sono impazzita e allora mi chiedo ma allora il lione perché faceva a noi sti ricordi a cosa è servito a school e ai figli della storia fargli conoscere il passato di laguna cioè lui poteva arrivare al punto di Airstar dove si scopriva che laguna è presidente e trattarlo come presidente non trattarlo come laguna è quello che ho visto io lì completamente fuori di testa ho detto tutta la storia di Elione non c'è senso allora più che non ha senso allora la storia di Elione è importante per Artemisia sì ma la storia dei flashback non c'è senso la storia dei flashback secondo me è semplicemente per informarli in che senso laguna se vai a vedere lui è quello che scopre e vede con i propri occhi la prima volta del del cosa di Pandora quando viene usato il pianto lunare si speciale per cui è servito comunque a scuola per vedere tramite gli occhi di laguna quello che cazzo può succedere con questo con quest'arma che oltretutto stava andando Safer a prenderlo per spararlo su Adele per liberarla che poi ci è riuscito sì per cui io lo vedo più come un fattore di informazioni cioè lei il primo flashback che era un facciamo conoscere i personaggi facciamo vedere quanto è deficiente il padre e poi da lì a scaletta cominciava a dargli qualche informazione qualche cosa chi era Galbadia perché è successa sta cosa perché comunque se andiamo a vedere 17 anni prima che sarebbe i flashbacks c'era la guerra tra Esther e Galbadia che era chiamata anche l'era della battaglia della strega guerra della strega e poi c'era Adele c'era sì Adele sì poi quando finisce tutta quella cosa entra in gioco il silenzio di Esther sì l'era del silenzio di Esther se rinchiudo e ciao sì poi dice ciao a tutti sì però per quanto io li ami e per quanto sono belli vedere il legame di Lione Laguna Laguna Scuola eccetera eccetera fondamentalmente raccontati così quando hai finito il gioco dici ma sì ma è roba secondaria cioè potevano anche non esserci eh lo so ma è un peccato cioè una cosa così bella che però alla fine della fiera dici ho capito ma che cazzo l'ho visto e fa sì cioè non c'è senso tutta roba di Lione tutta roba di Lione non ha senso se non per il fatto che e Lione deve essere quella che ha lo stesso potere di Artemisia ma perché non si sa però lei ce l'ha e fantasy ok però rimane boh secondo me incompleta cioè ha un ruolo ben preciso molto importante per la storia però se ci vai a riflettere alla fine perché faceva questi flashback con Scuola se poteva effettivamente parlare direttamente con Laguna perché Laguna ne è morto se era morto Laguna avevano senso questi flashback che dici io non c'ho altro modo Laguna non può lontanare da essere e lo so ma lei i flashback ce l'ha a distanza sì no quello sì quello sì quindi cioè si smonta completamente questo personaggio di Elione e un po' la storia per tanto tempo è centrica su Elione andiamo a prendere Elione salviamo Elione e tu dici ma perché ma per quale motivo e in realtà il motivo c'è là però lo smontano secondo me eppure lì io all'inizio che ti ho detto di Elione per me non è un personaggio ma è un oggetto eh già perché se tu vai a vederlo cioè l'unica cosa che serve Elione stretto stretto lasciando stare i flashback è semplicemente che Artemisia può tornare indietro di facciamo finta 8 anni per cui va nel nostro presente e poi dice cazzi tutto torna ancora più indietro però non posso farlo mi serve qualcuno Elione e cerca di piare questa cojona e cerca di andare ancora più indietro nel tempo che poi oltretutto io lo può fare però vabbè lasciando stare questa stronzata e alla fine è quello cioè Elione stretto stretto sì è il mezzo che serve ad Artemisia per fare il suo piano perché Artemisia non può viaggiare nel tempo ma gli serve la famosa macchina quindi lei può viaggiare fino a un certo punto in cui la macchina è stata creata ed è funzionante più o meno poi gli serve il Leone per andare esattamente dove vuole e quindi Elione è importante tutta la storia Elione è qua Elione è là Elione l'abbiamo persa Elione sta là no non sta là perché non sta là oddio dove sta sta nuovo spazio vabbè però sta storia dei flashback per quanto io li ami se vai a stringa e dici ma per me è semplicemente anche un'aggiunta di informazioni per fatti anche capire anche un po' che lui è il padre di Squall cioè tutte queste cose che poi ecco per me è una cosa che è sempre mancata a me sarebbe piaciuto che lui che si scopre proprio davanti ai personaggi davanti a Laguna davanti a Squall lui è tuo padre io vorrei vedere la faccia di Squall in quel momento allora in realtà c'è questa io ci sono rimasta malissimo allora dopo che tu parti con la Laguna Rock tutti insieme con anche Laguna eccetera eccetera e andate verso il finale verso il castello e quindi mi sa già dopo la compressione temporale se non sbaglio se tu giri nella Laguna Rock c'è una stanza dove c'è Laguna Kyrios e Ward tu puoi andare da Laguna e lui ti dice eh dopo la missione dopo che sarà finito tutto ti devo dire una cosa importante però non ti dice che cosa se tu no è ancora peggio perché tu vai da Ward Ward fa i suoi puntini perché lui non parla e Kyrios infame in realtà ti dice eh Ward voleva dirti che Laguna è tuo padre una cosa del genere che in realtà quindi è Kyrios traducendo Ward che dice davanti a Laguna che a Squall che Laguna è il padre Squall così ma ecco ma la cosa peggiore è che c'è questo dialogo di Laguna che poi parliamo e in realtà io dopo il game cioè ci ho provato a tornare nella Laguna per fare il il dialogo in cui lui dice io sono tuo padre e non c'è questo dopo parliamo cazzaro di merda non parliamo mai non parleremo mai però pure lì cazzo ma ma perché no hai detto tante stronzate hai fatto tante stronzate su sto fare a fantasy 8 tante cose che non ci hanno senso pure il lione non c'ha senso l'unica cosa che ci interessa è il rapporto padre figlio di Laguna e non ce lo dici che poi lì da mo' che uno fa cioè io da molto prima avevo iniziato a fare congetture ma chissà se ah quindi Giulia e Giulia no forse Giulia Giulia oh Dio Giulia è nata col coloro quindi Giulia è la madre di Renova quindi allora Reign potrebbe essere la madre di Renova quindi tu gli fai questi ragionamenti se tu ci fai caso è stato molto molto vicino al fatto che potevano essere fratelli a Renova e Scull sì 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 assolutamente però è bellissimo quando cioè in uno dei flashback di Laguna eh no perché Giulia si è sposata col colonnello e quindi tutti gli allora allora è la madre di Renova è quella allora tu lì inizi a pensare allora può essere che Laguna è davvero il padre dei scuoli eppure è bello però cazzo alla fine me lo devi di non che lo dice Kyrios che traduce Word davanti al laguna e scuola così cazzo di qualcosa pure tu di qualcosa hanno preferito far vedere quello che sorride per la prima volta quell'altro che si strozza col panino che è un peccato guarda se tu mi faci vedere soltanto Zell che si strozza col panino ero contento perché per me è il finale perfetto cioè Zell io ripeterò sempre Zell è stato il personaggio più bello Zell è carinissimo Zell che discute ogni due secondi con Seifer sì con Seifer ogni volta c'è sempre il dubbio che sbaglio con Seymour cioè per me io mi divertivo come un pazzo cioè loro stanno andando in guerra in trincea loro scherzano fra di loro sono carini ma in realtà anche il disagio di Seifer è molto carino che in realtà vanno poi vabbè ripeto io sono affeccionatissima al gruppo Ryujin e Fujin mi hanno fatto amare il doppio Seifer capito se no era il cassimo stronzo che fa il turno invece Ryujin e Fujin secondo me sono parte molto molto importante proprio di quello che è Seifer mi hanno detto una cosa che io non avevo notato non so se tu hai notato probabilmente sì di Seifer Seifer il fatto di essere il cavaliere della strega tu mi hai detto eh perché si ricorda qualcosa di Edea eccetera eccetera della madre del passato e in realtà altre persone quando l'ho giocato in live in chat mi hanno detto eh ma sai che Seifer si ispira al famoso film dove ha recitato Laguna in quella parte in cui Laguna registra il film che prende il gunblade e combatte contro contro il mosso contro il drago dice eh Laguna in realtà è uno una figura ispiratrice di Seifer perché in quel film Laguna faceva il cavaliere della strega e infatti Seifer e Laguna impugnano tutti e due il keyblade a cazzo di cane come se fosse una bacchetta io quando ho visto questa similitudine ho fatto che carina questa cosa è vero proprio è bellissima è bellissima impugnano il keyblade uguale a cazzo di cane proprio e il bello che Laguna in quel flashback lo dice dice ma io non mi ricordo come si usa un keyblade vabbè prendiamolo così e in realtà Seifer si ispira a quel film lì dove lui faceva il cavaliere della strega e gli ha rubato la posa mi piace mi piace proprio da non ci ho mai fatto caso molto molto carina molto molto carina Seifer è molto bello Seifer è molto bello sì 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 ci sta tantissimo e volevo farti un'ultima domanda per chiudere ma in questo momento me la so scordata magari mi rivela in mente tra un attimo vedete l'età ragazzi l'alzheimer l'alzheimer voi ragazzi non invecchiate volevo chiudere chiedendoti il miglior momento e il peggior momento del gioco qual è la scena che ti è piaciuta di più o l'intera parte di gameplay che ti è piaciuta di più e di meno allora difficile cazzo parlando quella che mi è piaciuta di più o gameplay o scena insomma no vado più di scene ok di ora stessa ci stanno diverse che mi piace un sacco ah mi sono ricordata l'altra domanda ottimo pari merito c'erano due che era come dicevo prima quando vabbè quando scuole si fa sparare in uno spazio per salvare rinoa che stava lì vagando morendo e l'altra è la morte di scuole io lì mi è piaciuta un sacco che io ci sono rimasto come un idiota con quelle lastra di ghiaccio che lo penetra da parte a parte a me quel pezzo mi è piaciuto un sacco poi soprattutto perché era un urlo che non c'era l'urlo però faceva sentire come se ci fosse l'urlo di rinoa anche se era muto ed era per me era stato bellissimo è bellissima questa cosa che vi è ripresa anche nel finale con scuole che fa rinoa 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 e non la sento questa cosa degli urli muti viene ripresa un sacco di volte quindi questo è il tuo miglior momento? sì forse è quello però è bellissimo anche proprio il finale quando lei urla che vedi tutte le nuvole che si separano i fiori che sbocciano con scuole che si rialza pure quello è bellissimo in realtà e invece nel pezzo di gameplay complessivo quindi che ne so dungeon più parte finale per non limitare solo a un momento il castello di Artemisia quanto è bello dai anche la cazzo di musichetta non mi ricordo come si chiama quella di Artemisia è meravigliosa quella del castello bellissima è un'ostra molto molto bella molto bello il dungeon finale poi c'è pieno di boss pieno di oggetti anche molto particolari forti si pieno di boss che arrivi però quella è l'altra storia se ci arrivi troppo pompato si e non ti stai neanche impegnando più di tanto è quello ci arrivo impegnandomi mediamente che ogni tanto mi fermo a far male e muore vabbè non oso immaginare se ti impegni un minimo che succede non sai qual è un altro che mi piace tantissimo che oltretutto mi è probabilmente adesso non mi ricordo se era Udino cioè il tempio di Udino era ok è quello tutto a tempo si si il tempio di Udino quello pure mi era piaciuto molto quindi di momenti insomma quelli romantici diciamo quelli più romantici tanno colpito si e di gameplay però il castello è il castello e il peggior momento cioè la cosa che toglieresti proprio da io c'è una cosa che toglierei proprio ossia di gameplay oppure proprio un pezzo di storia che toglieresti che non ti è piaciuto di gameplay il fatto che ti potenzi troppo facilmente vabbè no quello quello è in extra proprio a livello narrativo c'è sto dungeon che dici è proprio brutto sto pezzo che è proprio brutto o sta scena che è proprio brutta uno ce n'è quanto mi sono rotto il cazzo quando dovevi combattere che c'avi solo con Rinoa e scuole sullo spazio quando dovevi ammazzare prima quello rosso poi quello giallo mamma mia che dito in culo quel pezzo mamma mia che coglioni quello con i cosi sì quello mi ha rotto quello mi stavo solo sulle palle e io e il mio invece ti sblocco ricordo perché c'è una cosa che è peggio e secondo me te la sei solo scordata secondo me te la sei scordata perché è una cosa imbarazzante sto parlando del momento in cui c'è l'invasione di Galbadia con le navicelle di qua e di là e c'è Galbadia che invade Balaam tu vai entri a Balaam perché c'è il posto di blocco ma riesci a superarlo e devi riuscire a parlare con il capitano che so Ryujin e Fujin fondamentalmente quel pezzo per arrivare a trovare il capitano che è sparito hai una serie di dialoghi da triggerare che non ci hanno senso devi andare a parlare con quello prendi il pesce cucina il pesce quello nel cofano è una rottura di coglioni poi è lungo e non si triggera ogni volta i trigger non ci hanno senso quindi devi riparlare con tutti all'interno di quel cazzo pure con la gente con la bambina il bambino e dici ok qua si è triggerato mo cerchiamo l'altro dei gari parla con tutti no quella è una cosa che io ti giuro lì ho iniziato da di matto lì ho iniziato da di matto che è così lì ho iniziato che me lo ricordo però non me lo ricordo troppo ruttura di palle non so perché non ho secondo me l'hai cancellata ma è possibile è possibile no quel pezzo in cui poi parli 12 volte con i i soldati di Galbani dicono eh ma il capitano non si trova addio dove cazzo finito ma sai dove è che mi ero bloccato io e porca sono stato due ore in live oltretutto a quel cazzo non riuscivo a trovare il la casa dove cazzo sono cresciuti loro scuole e l'arte non riuscivo a trovarla eh pure lì perché cioè tu stai a Trabia che sta tipo qua sopra e adesso andiamo alla casa e tu dici sì andiamo alla casa dove cazzo eh dove è la casa dove è la casa andiamo alla casa dove è la casa è la casa di pietro sul mare dov'è niente devi iniziare io penso di aver trovato tutti i dungeon nascosti del mondo mentre trovavo mentre cercavo la casa tranne che la casa perché se no l'aeronave dove ci stavano i seed bianchi che stavano nascosti dietro le fratte quando cazzo le trovo no 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 te ne ficassi pure io ho avuto più problemi a trovare i seed bianchi che che poi le drodicono stanno a Sentra e tu vai in questa cosa gira 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 già ho trovato Dino e il king dei tomberry cazzi ma la nave indossai una fregnetta così tra due roccia mamma vacca a me lo dico che te guidava io non c'avevo nessuno che ci aveva giocato no no diciamo lì ho avuto un po' più dei problemi perché avevo capito il punto ma giravo e comunque no vedevo perché era così nascosto tra due ma la casa d'idea pure andiamo alla casa dov'è la casa eh sul mare per tutto mare non mi ricordo se c'era qualche NPC che te lo diceva pure se tu metti la sfulcia a pallacci però non me lo ricordavo cioè ripeto ragazzi giocavano a ero piccolo per cui molte cose non me le ricordavo sì poi il problema grosso che ho avuto con i seed bianchi insomma trovai i seed bianchi è che dopo la casa d'idea dove vi non si sa per quale motivo tornare dentro il garden proprio dentro al garden volante e andare a parlare con Rinoa se non andavi a parlare con Rinoa non appariva sta barca io che in Rinoa non la sopportavo figurati se mi mettevo a parlare con Rinoa e quindi prima di riuscire a trovare questa cosa è stato brutto però secondo me la parte migliore del gioco a parte l'inizio tutto l'inizio secondo me è proprio bello ti trascina l'esame la missione la guerra poi la missione per la strega e il momento della parata è qualcosa di incredibile il momento della parata cioè il momento in cui esce idea e c'è il cazzo di firmato della parata wow con tutte ste cose che danzano l'idea la strega bellissima non il momento della battaglia cioè prima quando inizia e parte è qualcosa da brivido perché poi è bello lungo ma è bella anche la regia tutta tutta sta cosa carnevalesca e lei bella da morire è stato è stato proprio proprio da brivido invece il momento dei gameplay che mi è piaciuto di più complessivo è stato il momento in cui vai a fronteggiare il garden di Galbadia con la battaglia con la strega e poi vabbè si libera cioè quello è bello perché c'è sta il garden di Valam tutto pieno dei soldati tu che inizi a di tu vai là tu vai qua tu vai su ci sono tanti soldati i plotoni Zell che ne comanda uno quello e poi il momento in cui vai a chiappare a chiappare no al volo cioè pure quella è tanta roba ma la parata ti dico una cosa ti dico prova a chiudere gli occhi e prova a immagini con la tecnologia di adesso quel gioco ecco un remake secondo me è ciò che gli servirebbe di brutto un pochino per mettere a posto i problemi di sbilanciamento io non so se tu hai sentito le voci che girano allora cioè si parla che il prossimo dopo il 7 che stanno facendo sarà il 9 dopo il 9 mi stai toccando il 10 perché se tu vai su Instant Gaming e già ci sta scritto Final Fantasy 10 remake già della cosa mi sta morendo il cuore 2026 c'è scritto però 2026-2027 mi sembra già presto prima cosa seconda cosa ho una paura della madonna per me sinceramente io l'ho rigiocato pochissimo tanto fare capimone manco invecchiato male il 10 per cui ritoccarlo un pochino ma rifacessero no vabbè il 6 non lo posso perché se no gli bloccano pure la madonna per cui io il 9 non l'ho giocato quindi non lo so gioca il 6 gioca il 6 lo recuperiamo ripeto per me è il villain più bello più più sì il più bello e il più cattivo della storia di Final Fantasy ma sai cosa l'8 c'ha proprio bisogno perché un po' devi mettere a posto il problema di sbilanciamento poi se me lo fai action va bene basta che ribilanci le cose capito cioè devi lasci le junction ma devi pompa i boss non è possibile che i personaggi possano fare PIM con le statistiche e i boss no è imbarazzante ma il problema con l'8 è che devono toccare pure la storia e mette a posto un paio di robe cioè alcuni spiegoni diluirteli molto 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 meglio e secondo me è per quello che non lo fai se fosse parlato no dovrebbe essere che un po' riescono a farlo un pochino meglio su sto lato nì perché comunque gli spiegoni sono quello dopo l'altro prima è quello di Irvingio poi subito a gamba tesa arriva idea poi subito a gamba tesa arriva quello di Astar e tutta una parte c'ha capito che lanceressi il joystick dalla noia secondo me devono toccare troppe cose troppe 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 cose per fare un remake però effettivamente gli serve cioè che mi toccano il 10 è bello così il 10 è vecchio c'è il turno e non tutti amano il turno quindi me lo toccheresti per fargli l'action al 10 però fondamentalmente è quello cioè va bene così il 10 che cosa devi cambiare poi io quello che mi dico dal 10 mi dici come fai i movimenti otti tu sei uno che giocava a calcio al blitzball che movimenti con la spada ti potrà fare di così bello da vedere a parte così hai capito cioè boh e e poi ti ve l'ho fatta anche una domanda era il tuo team preferito che usavi ah è molto semplice perché ho usato solo i maschietti perché ero in protesta con le donne dal primo minuto ma per quello che ho detto prima perché non mi piacevano la caratterizzazione delle donne secondo me era troppo 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 povera ho fatto i complimenti solo a selfie nel momento dei missili che è un gran momento e selfie ha tirato fuori le bolse a me è piaciuta però un tolto quello uff quindi le ho accannate quando potevo calcola che nel dungeon quello che dicevi non c'erano levono no è perché mi stavano a chiamare quindi calcola il momento che dicevi tu della battaglia dello spazio dove c'hai per forza Rinoa c'hanno Rinoa al 13 scuola al 56 facciamo con lui corello no vabbè grazie a Dio fanno tutte le junction quindi puoi avere il personaggio al 9 con le junction arriva statistiche incredibili però c'è c'avevo davvero Rinoa al 9 e scuola al 56 e stavo lì con i cosi colorati gli alienetti colorati io devo ammettere invece no il mio team era Spool Zell Rinoa e niente Rinoa tu stava lì sì ma c'è c'ha delle abilità poi Angelo no anche lei Angelo Angelo c'ha l'abilità no una una che mi piaceva utilizzare era Quincy Quincy aveva delle abilità importanti poi si chiama Quistis però per me era Quincy mentre rimane Quincy no il puttaneo da battaglia per me è solo uno che ho usato che sarebbe Tiffany Tiffany l'unico puttaneone che uso beh Tiffany 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 è una bella c'è capito una bella donnona Quincy e Renoa selfie vabbè almeno un attimo si risveglia anche se per i miei gusti io preferisco altri personaggi cioè per me per me Hyrit è il miglior personaggio femminile di 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 Final Fantasy aspetta aspetta devo dire una cosa Hyrit del gioco originale perché quello del remake no e io conosco quella quindi per me è un po' tipo Puppet tra l'Eri no non si sa chi è peggio fondamentalmente tra l'Eri no le vedo così un po' etere che fanno un po' le ragazzine nel remake c'è sta Hyrit andiamo a prenderci lato cioè a me me cascano non c'è l'uomo ma me cascano a me piace tanto Hyrit perché è femminile cazzo io capisco stai guerre di femminile dai non è chiedo tanto invece c'è un uomo mancato gli togli il seno gli metti il pisello è fatto va bene così ma lì è proprio gusto estetico comunque c'è Hyuna che insomma lei danza Hyuna per esempio è molto anche lei femminile però Hyuna è un po' troppo personaggio chiuso dentro un'ampolla per cui non capisco cerchiamo di non di non svariare perché stiamo con la fantasy 8 però Hyuna diciamo che porella ci sta che sia chiuso cioè è una poraccia che sta a morire cioè non è che dice me godo il viaggio vaffanculo ma è toccato proprio a me capito lei dal primo minuto di Final Fantasy prova a ridere e dice cazzo è toccato proprio a me sta sfiga e quindi è bacchiata gli è voi da torto no porella voglio un viaggio pieno di sorrisi ho capito ma non gliela fa capito anzi anzi che ogni tanto ci prova però il senso del cazzo che sfiga proprio a me se sente e non glielo fa manco manco recriminare l'ultima cosa chiudiamo il video così perché mi sono ricordata quello che ti volevo dire io dopo aver finito Final Fantasy 8 ovviamente ho fatto un po' di ricerche ho visto un po' delle spiegazioni in giro analisi e teorie così per farmi un po' un'infarinata di quello che ho mancato per vent'anni e c'è la teoria la teoria io voglio sapere se tu sei pro o contrario la morte di Squall a CD1 no lo sapeva dicevano quella lo dicevano la morte di Squall nel CD1 dove tu hai detto dal famoso pezzo del ghiaccio che lo prende quindi la teoria più in vola su Final Fantasy 8 è che Squall sia morto in quella battaglia tre dischi li buttiamo nel cesso tu che ne pensi pre morte del personaggio si pre morte puttanata paradosso temporale ammazza che pre morte del merda che c'hai ok quindi tu non credi assolutamente no cioè perché andresti a distruggere la cuna tutto quanto tutte le storie che sono state create e chiappate e buttate nel cesso e poi uno che porca ha vissuto come ha vissuto scuola e ci avrà la fantasia di un esatto di una nocciolina ma può inventarsi tutta una madame del genere analisi pre morte è un paradosso temporale posso capire se chiamasse Yoko Taro o Nomura quello sì sicuro c'ha un pre morte del genere scuola scuola era tipo che sfiga proprio adesso vabbè dai fai niente quindi tu sei contrario alla morte di scuola e invece tanta gente è fermamente anche perché dopo effettivamente hanno ragione dopo il momento della strega iniziano i problemi con gli spiegoni la storia che involve su se stessa tutte le storie lo spazio cioè succede tutto a cazzo di carne c'è cd1 pare scritto proprio da tante persone con un altro ritmo dal momento della parata in poi c'è tutt'altro ritmo tutt'altra confusione quindi da una parte ci possono avere ragione ma secondo me sotto la tua stessa idea cioè non puoi buttare tre quarti di opera se era un cd solo all'ultimo ma non puoi buttare tre quarti di opera non è una cosa che però comunque va a rompere un po' questa teoria secondo me è il fattore che quella cosa che c'era scritto in una libreria ti dice che ci sta una prigione che nessuno sa dov'è che trattiene una delle streghe più potenti della storia per cui diciamo che un piccolo indizio c'è sta per cui non lo so secondo me è un po' una forzatura questa qui del pensare che abbia fatto tutto scuole pure perché è un po' come su Harry Potter quando dicevano ah sta per sconfiggere volte morte e poi Harry Potter si risveglia da sottoscala no tu madre si risveglia da sottoscala facevano cose in generale rolling non so che gli succedeva esatto esatto no io sono della tua stessa c'è buttà tre cd sono troppi poi butti troppe cose butti tutto tutto laguna butti le streghe butti pure Artemisia fondamentalmente tu l'hai un po' additato come personaggio però secondo me fa esattamente quello che deve fare cioè sarebbe stato bello approfondirlo ma effettivamente non possiamo perché sta anni e anni luce da un'altra parte a me infatti ti sarebbe piaciuto nel finale quando vai ad Artemisia nel suo tempo per sconfiggere un libro non è che chiedo un libro buttato l'aria ho capito ma che c'è stato il castello d'Artemisia un libro che ho scritto la vita d'Artemisia no no la vita d'Artemisia no però magari anche un NPC qualcuno morente un piccolo sarebbe stato bello sarebbe stato certo niente morte di scuola cd1 niente frame con la faccia bugata che sta simbolendo la morte sono quelli di bugato per me però sono d'accordo con te e una cosa proprio velocissima sempre nel finale quando c'è praticamente il film tutta questa distorsione che non finisce più quel filmato no corri no che pia torna indietro sensazioni io sono stata molto disturbata perché effettivamente che cazzo succede cioè stanno tutti da una parte che cercano di tornare il tempo ci ascolta un'altra parte che è quasi morto le immagini di rinoa rinoa che spari ma che cazzo succede però è bellissimo io ti ricordo che rinoa ha assorbito i poteri di adele e di artemisia per cui i due streghe più forti della storia per cui è stata lei rinoa quando fa quell'urlo liberatorio diciamo per me riporta tutti nel presente tranne scuola che fa un peace stop nel passato vedendo artemisia che muore e poi torna anche lui nel presente vabbè perché vorello lui è un po' così c'è la via larga la via sì però almeno io da come l'ho percepita io è stata lei infatti se voi andate a vedere qua parliamo di una cosa molto vecchia ci fu un ragazzo che americano che è stato un genio per quanto mi riguarda creava degli combattimenti ma tutti video ha proprio fatti pure benissimo tra i personaggi e infatti poi quando in un video compare rino a combattere anche lei ma ci stanno tutti final fantasy dal primo al decimo sembra quando compare lei lei è praticamente Gesù 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 con le ali da angelo perché comunque lei è diventata talmente potente comunque come personaggio che mi sembra che non Nomura però era qualcuno sempre di Square Enix ha fatto la scaletta rino è consigliata il personaggio più potente che c'è nel mondo final fantasy per quanto è diventata una ragazzina deficiente una bestia di Satana perché ha preso le due streghe più forti che c'erano e si è appappata tutto no vabbè sono contenta rapido indolore pensavo di stacce di più no perché e invece sei di quei pochi che in realtà ho scoperto essere pochi che non vogliono credere la morte di school c'è tanta 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 gente è proprio fermamente convinta c'è 3 cd li butta io non non riesco a concepire non riesco a concepire tutto che sono il tipo che preferisco la tragedia per me il continuo non esiste per me il 10-2 non esiste è un numero buttato lì a caso non esiste un gioco che si chiama 10-2 per quanto mi riguarda è un'esperienza premorte tutto che c'è il video finale che l'accontentino non me ne frega un cazzo cioè il gioco lì era conclusivo perfetto con la sparizione di titus e così via come il finale del 9 è perfetto così com'è cioè deve essere giusto per me non me ne frega un cavolo poi se mi piace o non mi piace da essere giusto per la storia come viene raccontata quindi se la morte di school la accettavi sì se school lo facevano morire cacchio non so muore school il laguna di mentre il passaggio principale e cambiava la storia era un po' diversa e qua e là aveva un senso logico e ok ma farlo morire la school che era un idiota sid che ha provato a fermare la strega la prima volta che si è incontrata è andata sottoterra che comunque ha senso perché era comunque molto forte per carità per cui tu ti ricorderai di school in quel caso che un coglione sid che è morto al primo combattimento importante contro la madre è un coglione c'è un personaggio di merda quello che avrebbero scritto e comunque no e poi succede troppa roba troppa bella non puoi buttare tutto non puoi è quello è buttato così troppo buttato cioè poi ripeto Paul è uno dei personaggi più amati della saga carino cucciolino piccolino anche se è laguna anche se è laguna bello beh quanto è bella la scena finale di laguna c'è proprio la scena finale di laguna quella è devastante la che va a trovare c'è questo ricordo gli amici dietro quanto sta bene vestito così laguna quanto sta bene vestito con qualsiasi cosa quando era più giovane meno sempre bello sempre bello laguna è un po' quel personaggio che più invecchia più sta meglio anche ignudo sarebbe benissimo vabbè mi riusciano va bene io io non ho altro da aggiungere a questa chiacchierata grazie 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 a te per questa chiacchierata che ti invito grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te